Seconda porta Sì Allora Noi Cosa che hai il lato? Mi raccoy? Mi raccoy? Mi raccoy? Mi raccoy un po' Da 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 Sperma Vai, 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 stop Vai, 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 stop Brava Vai, 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 stop Ronta Vai Vai, vai, stop Ronta Vai, 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 stop Va bene, prova a dare un pochino di intellenza. Pronta? Vai, vai, stop! ... La gamba sinistra rimane a terra, con l'asse, la destra se ne va lentamente, Rettamente, rettamente, rettamente. Non male. Stendi, stendi, stendi. 22, 23. Ok, però va... Sì. L'appoggio è che sta sopra. Adesso è il resto. Lento, lento, lento. Pronto? Vai. Stendi. Stendi. Supera. Appoggia, pallone. Stendi. Stendi. Sempre qui. Non staccare via. Non staccare via. Se riesco, se non riesco, io ce lo faccio. Tocca. Non è tanto qua di qua. Due. Tieni, destra. Cinque. Uno. Uno. Stop. E' parte. E' parte. E' parte. Vai, un po' di cadastro. E' parte. E' parte. Ok. E' parte. E' parte. E' parte. E' parte. E' parte. E' parte. Quattro, quattro. Buongiorno 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 Dura, dura, dura Buongiorno Buongiorno Buongiorno